Il bilancio di questa 81esima mostra internazionale d'arte cinematografica al Lido di Venezia è molto positivo, più che altro perché? Perché con questa edizione Barbera, come al solito, ha vettuto ed innova soprattutto per quanto riguarda la sezione, che ancora sezione non è, o meglio, le serie tv presentate di altissima qualità che meriterebbero una sezione a parte con dei premi. E questo è forse l'elemento più interessante che abbiamo riscontrato in questa mostra, che ha avuto anche un'affluenza di giovani e anche un rebound nei vari social di gran interesse, tanto che come Sugar Park Magazine siamo anche scesi su TikTok proprio per iniziare a dialogare con questa nuova platea. Ci hanno fatto divertire sicuramente fin fuori concorso, penso a Wolves con Brad Pitt e George Clooney, ma direi anche la copiata Horizon 1 e 2 di Costner, film molto diversi, io insomma ho amato il ritorno al western personalmente. Una cosa che mi sento di sottolineare, forse anche con un filo di polemica, è che in alcuni casi ho particolarmente apprezzato quegli attori che sono stati in grado di interpretare personaggi che per cote culturale parlavano più lingue, riuscendo a parlarle, rispetto a quelle che non ci sono riusciti. È stata un po' una mia ossessione questa, però forse oggi sono meno disposto ad accettare che tutto venga parlato in americano quando così non è troppo credibile. Io aggiungo una cosa, in concorso forse quello che è mancato, nonostante ci siano una serie di film di qualità, alcuni anche che hanno stupito, ma il colpo di fulmine. Ecco, forse questo non c'è stato, però Venezia 81 conquista sempre i cuori con la sua atmosfera, con la sua dimensione di mostra d'arte, con questa bellissima voglia da parte di tutti di condividere il cinema, di parlarne, di confrontarsi, di capire le culture diverse e di trovare in questi nuovi valori la bellezza della condivisione che il cinema e la sala regalano e che ancora una volta Venezia 81 ha regalato. In realtà forse più ci penso e più mi convinco, il bello della mostra è anche questo, che magari le cose le capisci un po' alla volta e il mio colpo di fulmine c'è stato, è stato per The Brutalist, è stato un film la cui importanza è stata sottolineata dal direttore Alberto Barbera fino all'inizio dicendo che questa sarebbe stata la sorpresa di questo film. Ho apprezzato tantissime interpretazioni di Brody, ma anche la grande sfida produttiva vinta da parte di Brady Corbett che ha fatto un film molto coraggioso, molto americano da una parte e molto poco americano dall'altra, e quindi per tutte queste ragioni e anche per quello che dicevo prima è stato il mio colpo di fulmine alla mostra anche se indubbiamente un film di tre ore e trentacinque è comunque una discreta mazzata, però insomma sono riuscito a godermelo comunque e consiglio a tutti di andarlo a vedere in sala quando uscirà. Io volevo aggiungere che per colpo di fulmine io invece intendevo un colpo di fulmine che in qualche modo si è stato condiviso da tutti, che invece c'è stato l'anno scorso perché Poetix in qualche modo tutti quanti avevano percepito che fosse qualcosa di diverso e che convinceva tendenzialmente chi l'ha visto, mentre questa dimensione non c'è stata in senso generale così forte per un film. Ci sono stati ovviamente dei film che alla fine possono aver colpito molto di più, però insomma non in maniera così diffusa. Infatti è il mio colpo di fulmine. Esatto.